Arachi di quando? Se vuoi anche ora, guarda, ho una clip da farvi vedere ragazzi. Dietimi se è sus. Abbiamo qua un player su Discord nostro, ok, che sta vincendo molto. Ed è MK, e ora magari lo chiamo e vediamo se si sa rispondere. Allora, l'era accusata qua, subito. Se vediamo la leaderboard in questi giorni che non ho guardato la lista tryhard, abbiamo Clack Flux. 23C, DMK, contro i tryhard, eh. Questa è una cosa strana. Un'altra cosa strana qual è? Se no, guardiamo Clack Flux, ok, lui, offline. Account creato il 31 Agosto, aggiornate la nostra serie il 17 Settembre. 31 Agosto è già, puzza come cosa, giusto? Account nuovo, è Discord, giusto? Per uno che gioca forte dovrebbe avere minimo da un anno Discord perché tutti lo usano. No, qui vi dico, vi racconto come funziona il nostro Discord ragazzi. È tutto molto facile, tutto molto facile, guardate. Uno entra su Discord, potete anche entrare ora, punto scrivente un tipo di Discord. Entrati, c'è il tasto e il canale Play 1v1. C'è il tasto qua per aggiornare la... Appena aggiornate in lobby e appena siete in due, qua il bot vi crea un canale Lobby Match. Vi mette in coda, appena siete in due vi crea un canale. In questa lobby potete votare per le armi e la modalità per giocare, ok? E qua dovete guardare i dettagli, cosa ha scelto il bot per giocare. Poi vi condividete il codice della lobby, usando il nostro regolamento, diciamo, delle private. È molto facilissimo lì, ok? Vedete il codice, giocate e votate per il vincitore. Questo vincitore qua va nelle statistiche qui. Ci sono due lobby ora per tryhard e per far fun. Poi faremo le ranked qua, la divisione. Ecco, c'è Klax. Viene Klax che mi spieghi le statistiche. Molto chiaro. Non so se c'è Klax. Alcuni mi hanno detto che vivi delle kill strane dell'1v1. E io ho visto poi il tuo Discord e sei entrato il 31 agosto su Discord. E avevi anche un nickname diverso in game, se non sbaglio. Com'è il tuo nickname? No, era... No, 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 il main è stato shadowbannato. Quindi sto usando l'altro. Quando è stato shadowbannato? Qualche giorno fa. Sto aspettando da tipo un paio di giorni. Adesso non te lo so dire. Giochi dei make-up questi 1v1? Hai registrato qualche partita a farmi vedere? Sì. Hai vedere qualche partita? Anzi no, non è registrata da me. Però ti posso far vedere. L'altro giorno mi stavo aspettando... Come si chiama quel ragazzo con cui ci hai fatto anche l'aspect 2? Fast Mike. C'ha il VOD. Ah, c'ha il VOD? Sì, 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 te lo mando un secondo. Ah, mando il VOD? Ho aspettato un po' di partita. Eh, ma Dante, devi vedere solo 1v1 tra gli altri. Metti un minuto e 59, tipo. Un minuto o un'ora? No, è un'ora e 59. Zixel, sei tu? Sì. Quando è che ti ha aspettato? Avanti ieri, avanti ieri, sì. Da quando giochi qua? Da Warzone 1, MW19, Warzone 1, poi MW2, Warzone 2, basta. Avevo sempre questo nickname qua, Clack? Sì. Ma Clack ce l'ho su Discord. In game? No, in game ne ho avuto tanti. Lo cambio tipo... Appena c'è il gettore lo cambio. Comunque sì, mi hanno accusato due ragazzi. Due ragazzi soltanti. Cioè, ne ho sfidato ai ragazzi. Ne ho sfidato tantissimi. Solo in due mi hanno accusato. Chi? Sicuramente sarà uno di questi due che te l'ha detto. Chi ti ha accusato? Vin Diesel, quello che ha vinto il torneo. Che mi ha detto che ha vinto il torneo. Mi ha detto, perché non c'era il torneo? Io non... Forse non c'era ancora neanche entrato su questo disco. E poi basta. Ma nel senso, io conosco gente da mossa e tastiera che a me mi distrugge. Eh, ma è quello il fatto. Cioè, già... Tu hai vinto contro Vin Diesel? Una l'ho vinta lui, una l'ho vinta io. Ma hai vinto contro Vin Diesel? È bravissimo lui da padre. Cioè, hai vinto contro Vin Diesel da padre. Non so, sono molto bravo. Ma infatti non ho... La seconda partita lo sapevo come... Ho visto giocare la prima. Ho capito che dovevo fare un certo tipo di fight con lui. Tipo ravvicinati. Perché da lontano non vado da nessuna parte. Ho fatto delle belle statistiche qua in 1v1 contro tryhard. La maggior parte erano anche da paddare, no? Come paddare. Sì, sì. Ma ti dico, mi hanno fatto tutti i complimenti. Cioè, soltanto Vin Diesel e un altro che è un amico di Vin Diesel. Che poi tra l'altro quello lì mi ha detto... Faccio vedere anche la chat. Mi ha detto che lui non ha detto niente. Che è solo Vin Diesel che mi ha accusato. Lui non lo pensava. Ci ha fatto 1v1. Voi qua avevate radar attivo, vero? Certo, certo. Non gioco neanche senza la notte. Ma io già dall'altro giorno volevo dirgli... Scusa, vieni con me. Andiamo da Kyborg. Visto che tu parli, ma non so quanto cazzo te ne intendi di... Io mi metto lì su Discord, streamo, mentre giochiamo io contro di te. E Kyborg si guarda tutte le partite che vuoi e mi fa analizzare da Kyborg. Perché io ho detto... Cioè, io non penso di essere addirittura sus. Ok, ma l'account di Discord perché è del 31 agosto? Perché non lo usavo Discord. Non l'ho mai usato Discord, è impossibile. Jockey of the Warzone 1... No, no, no. No, no, no. L'ho usato, ma non mi ricordavo i dati del vecchio. Cioè, non è che l'ho... L'ho usato tipo pochissime volte. Solo quando gioco con quelli da PC come me, pochissimi. Perché gioco solo con gente da Play. Quindi devo usare per forza Discord, accederlo. Mi ricordavo i dati e basta, ne ho creato uno nuovo. Di cosa te hanno usato? Niente, non lo so. Che semplicemente dicono che da MK ho un time to kill. Mi dicono che è impossibile avere quel time to kill da una seta stiera. E basta. Cioè, non saprei. Ma ti hai guardato un paio di partite? Ma, Mike? Sì, 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 sì. Anche dopo. Anche una col cecchino. So che non si dovrebbe fare. Però io uso gli slide. Onestamente la mossa di tastiera secondo me si può fare. Il pad viene un po'... Però io riesco a muovermi bene. E fra l'altro la maggior parte delle persone mi dicono che non si aspettano gli slide. Perché raramente glieli fanno. Poi tipo 2.48. Anzi, prima, prima. No, qua contro Niffler. Qual è il tuo Activision ID su Warzone 1? Eh, boh, se vuoi lo copio te lo do. Vai. Dimmi quando me l'hai mandato. Eh, non ce l'ho. Sto vedendo se lo trovo da Warzone. Cioè, mi ricordo il nome. Non mi ricordo però l'hashtag con i numeri, capito? Stavolta non avevo la foto perché avevo la foto. Ok, com'è il nome? È un po' ignorante, te lo scrivo aspetta. Te l'ho scritto qua nella chat dove ti ho mandato il link di Twitch. Non mi ricordo l'hashtag con i numeri. Non mi ricordo l'hashtag con i numeri. Eh, ma anche senza numeri. Se io lo scrivo dovrebbe uscire qualcosa qua. Sì, sì, era il mio account quello. Perché ho schiacciato così e mi è uscito il mio account. Perché qua non c'è. Non lo trova questo account, eh. Forse l'avevo cambiato. Prova questo. Anche questo è ignorantissimo. Non scrive long caps. Non scrive long caps perché ti blocca. Tra l'altro cambio nome tipo ogni volta che ho il gettone. Non lo trovo neanche questo. Eh, non mi ricordo. Non mi ricordo il nome. Non mi ricordo il nome. Dimmi il coso. Un amico con cui ha giocato gli ultimi dei amici su Warzone 1 che ha giocato. Così lo controllo dal suo. Perché questi nickname non ci sono. Non esistono. Ci sarebbe provare tipo... Mamma mia, mi stai chiedendo cose troppo vecchie. Ma come vecchie? Sono il tuo account di Warzone 1. Hai detto che ci giochi da Warzone 1. Questo account Zixel di chi è? Questo è il mio. Questo è il tuo? Sì, sì, sì. Così quando mi sciato Banano 1 gioco sull'altro. Su tutte e due c'è Multiplayer. Sì, sì. L'ho preso perché era tipo scontato. Te ne ho dato anche altri però di amici miei con cui posso aver giocato. Che non mi ricordo i nomi. Non puoi non ricordarti i nomi. Cioè non puoi non ricordarti il tuo nel game su Warzone. Allora, se tu mi chiedi i nomi degli amici che ho adesso, adesso, su Warzone, adesso. Non sto parlando dei vecchi. Adesso. Io non te li so dire, ok? Devo entrare su Warzone e leggerteli. Non te li so dire. È la verità, raga. Io non so cosa dirvi. Ok, questo è la clip di Vin Diesel. Guardiamo. Fammi vedere la clip. Avete giocato e nessuno... Allora, questa cosa sta durando troppo quindi vado a recuperare un attimo. Arrivo subito. Ah, Dio. Questa è bella, devo essere sincero. Anzi, fammi vedere la clip prima. Gira. Questa è contro Vin Diesel che avete giocato in due e nessuno vi ha aspettato. Sì, ma nel senso, ok. Ok, se io faccio 200 kill e tu me ne prendi magari una, proprio quella che ho fatto perfetta, che sapevo che era sul barile, quella che ho intuito, quella che ti riesce. È normale. Cioè non puoi portarmi una kill. Ti assicuro che questa kill me l'hanno fatta altre persone tante volte. Stessa kill uguale identica. Io che salto dal barile e mi fanno questa kill perché lo sanno. Ma non ti riesce sempre. Ok, va bene. Ci sta un'altra, questa qua. Per cui l'ho chiamata, perché lo vorrei chiarire, no? Questa è di un altro ragazzo. Che giocava contro di te. Li stai distruggendo questi paddare comunque? Cioè 28, 30... Questa è la tua replay. Cioè così, a predictare così con Wav, non lo so, eh. Qua è tutta minimappa. Intuisco che esce da lì e ci vado. Ma nel senso, ti ripeto, mi è uscito qua. Lo faccio sempre e quando mi riesce, mi riesce. Veramente non... Penso che... Questa è molto più sus di quella di prima, sinceramente. No, 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 no. Ti dico, mi fanno una kill del genere e anch'io penso che sus. Ah, aspetta. Però nel senso... È molto sus. Non è molto minima. Certo. Mi ho giocato i 300. Ma ti do ragione. Mi fai una kill così e ti dico che è sus. Ma non guardo questa kill. Inizio a guardare tutto il resto. Non posso guardare una kill, capito? Da una kill... Tante volte prendo kill che faccio. Questa è sus. Cioè, questo c'è qualcosa. Invece quello, vedo giocare e effettivamente non è così. Guarda, io ho aspettato tanti 1v1, no? Su Shipman. E lo so che la gente prefara, ma ci sono dei momenti in cui prefara e ci sono delle... Diciamo, playstyle in cui prefara, no? Cioè, così come hai prefara tutto qua, non prefara nessuno, honestly. Neanch'io. Qui lo stai traccando attraverso il muro e stai prefaraando uno che sta facendo il salto. Ma tu prima, aspetta, clac, ti volevo fare una domanda, ma tu è la prima volta che giochi 1v1, no? No. O c'hai giocato anche agli inizi in questo server Discord? No, no, agli inizi no, agli inizi no. Giocavo solo, giocavo sempre solo con i miei amici. E poi gioco soltanto Shipman, se 24-7, se sono da solo. Certamente ha intuito, io potrei capire questo con, non so, con una mirastita o qualcosa. Ho intuito che era proprio qua da preferare, capito? È molto più alto della testa. No, ma guarda, ti do ragione, ti do ragione. Allora, se tu mi fai giudicare un player da questa kill, ti dico i sus. Cioè, cosa ti devo dire? È una kill, però. Eh, ma sono queste le kill che hai fatto ieri sera o stamattina, che la gente mi ha mandato, ha detto, ho giocato contro questo qua e mi ha distrutto. No, sono queste. Io ieri avrò fatto, forse se calcoli tutte le partite, 120 kill. Se ne prendi due, quelle che vuoi tu. No, no, non è che voglio io. Non hai capito. Per la stessa cosa ti mando clip di tutti, capito? Cioè, ti dico, guarda questa kill contro uno che ci ha fatto 10 round e prendo la kill proprio più sus che mi ha fatto in 10 round. Ti dico, guarda questa kill. Hai ragione, hai completamente ragione. Io non ti sto dicendo nulla ora, ma guarda la situazione in generale, no? Arriva uno, DMK, che nessuno conosce, ok? Che c'ha l'account del 31 agosto, ok? Che non mi può confermare nulla che ha giocato prima, chi è, se non è un ex cheater o non è qualcuno, ok? Non può confermare in nessun maniera. Entra sul mio server di 1v1, nella categoria tryout, che, onesto, non sono tutti chissà che cosa. Tryhard, ho messo anche player sopra la media, i tryhard, no? Entra qua e DMK distrugge tutti gli DMK che ci sono in Italia. Allora, invece tu, guarda la mia situazione. La mia situazione è questa. A me, sinceramente, non me ne frega un cazzo. Io ho visto la tua live che dicevi, entrate in questo disco da fare 1v1. Io non ho passato un cazzo, sono entrato qua e ho iniziato a fare 1v1. Basta. Poi, non ho capito, nel senso, mi accusano, ti ho detto, non c'è problema. Ti posso dimostrare, io metto adesso la stream del mio PC, gioco davanti ai tuoi occhi, gioco contro chi cazzo vuoi tu. E ti faccio vedere che non è che sono questa gran cosa. Poi, prova finale. No, no, se volete, la prova finale. C'è anche a Palmino con cui hai giocato. Ho fatto coaching, ho fatto coaching da Gino e lui può dirvi, parli con Gino a tutte le session che abbiamo fatto di coaching, mi hai segnato ogni segreto. Non ho capito la battuta o sei serio? Gino sta facendo coaching adesso, vabbè, io sono un suo, sono un suo allievo. Quindi sei messo lì sul server a citare, con Volacchino e un po' di mira, giusto? No, no, ma scherzi, ho semplicemente fatto coaching da Gino che ha parlato di Volacchino. Ciao ragazzi, sono Palmino. Non ho capito la battuta. No, 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 niente, volevo un po' scazzare. Non ho capito, non lo so. Palmino, che mi dici? Giusto per capire, Clack Flux gioca a MK, giusto? Sì. MK. Io ci ho giocato contro, non ho mai visto un MK paro giocare così onestamente, quindi o è il dio di code da MK o c'è qualcosa che non va. No, te lo ho detto, sono i coaching di Gino, i coaching di Gino. Ma anche a livello proprio di mira, a me sembrava proprio che si incollasse la mira. Ma infatti, infatti, bro, qui, qua, quando sto guardando che l'ha aspettato Mike, no, tre giorni fa, qui smira in una maniera incredibile, bro. Cioè uno non può avere queste mira qua. Cioè se tu guardi tutte le partite, eh. Vabbè, con me non ha mai smirato un colpo. Non è vero, non è vero, non è vero, Kai, stai dicendo stronzato, ho fatto una kill super sass anche qua. Dred, ti spiego una cosa, non ha senso che uno dopo... Senti la spiegazione, aspetta, aspetta, prima di tutto. Senti bene la spiegazione, Dred, eh? Senti bene la spiegazione, continua, Kai. Sì, ma non trollare però, per dirtare dopo. Ma perché sto... No, 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 lo so, Fra, lo so, Fra, però sai che cos'è, onestamente ve lo giuro, ragazzi. C'ha ragione sto ragazzo, ho capito? Adesso Kai, per quanto vuole cercare di rigirare la frittata e magari non so cosa voglia rispondergli, perché stava già iniziando a fargli una super casa, era tipo, no, aspetta, perché praticamente bisogna sapere che... Nel senso, c'è poco da parlare. Io metto una stream e ti batto adesso qua in diretta a Blind giocando, capito? E allora vedi, vedi, Blind dice anche non mi batti. Quindi se io gioco con la stream, cioè ti metto la stream, te la streamo su Twitch, te la streamo su Discord, te la streamo dove vuoi, ti attivo la webcam della mouse and keyboard e ti gioco, più di quello non posso fare. Cosa devo fare? Eh, bro, bisogna semplicemente stare calmo, non iniziare a fare il pagliaccio, non so per quale motivo lo stai facendo. Ma stiamo semplicemente verificando che succede. Allora, se uno mi segnala un player, no? Il nostro Discord 1v1. Ascoltami, fammi parlare. Tu hai ragione, hai ragione, ascoltami tu in breccia. Hai ragione, è quello che avevo fatto io, ma questa situazione si risolve in 10 secondi, no? Come in 10 secondi? Non puoi risolvere una... 10 secondi? Certo, è certo, ti metto la cam delle mie mani, del gioco, del monitor, ti streamo su Discord e gioco davanti a te sfidando chiunque vuoi e risolto la situazione. No, non si risolve niente perché non si sa cosa hai giocato prima di questo. Ora puoi giocare al tuo pulito. Tutto ti metto, eh? Cam della tassiera, del mouse... Ma non sto chiedendo quello, non ha senso. Non ha senso quello dopo. Eh, allora no, quindi questa non posso fare. Ma non ha senso guardare uno che gioco dopo che ci sono delle clip, dopo che è stato accusato. Guarda che a me non mi interessa, neanche scusarmi. Però mi rimango accusato tranquillamente. Però ti ho detto qualcosa, non ti ho detto niente, vai. Cos'è questo, Stermi? È un uno contro uno contro lui. Ok, va. Io, aspetta, vi faccio una premessa. Premetto che in chat non ho mai scritto nulla, anche se mi sembra SUS. SUS, perché comunque poi passi pure per uno che è il solito rosicone che magari perde contro l'MG. Ma stai facendo vedere tutta la partita? No, so, 5 minuti di clip perché l'ho salvati. Perché non c'è uno che fa vedere tutta la partita, ragazzi? È perché la cosa di invidia mi registra solo 5 minuti, quindi... Eh, 5 minuti in un game di 10 minuti e... No, ma dico, gente come coso, come Vin Diesel, perché non fanno vedere tutta la partita? Quando faccio vedere i replay, in teoria c'è stato qualche kill sui replay che mi sono fermato apposta perché mi chiedevo come fosse possibile. Questa cosa qua, ragazzi, che mi dite, eh, sto girando il brodo, sto facendo il brodo, ma come fai a verificare al 100%? Io vedo un ragazzo da MyCup che non lo conosce nessuno, che prima dal 31 agosto non c'è nulla di lui, mi dice che non si ricorda il suo account di Warzone 1, non si ricorda il nickname, non si ricorda nessun nickname dei suoi amici con cui ha giocato, capito? Poi inizia a stressarsi per niente, perché non abbiamo detto ancora nulla, ha detto che solo... Ecco, tipo questa, guarda, la guardo questa. Allora, io adesso... Guarda qua, guarda qua. Ha detto che solo... Guarda che questo è strano. Allora... Aspetta, sono matto io oppure... Senza me sembrava comunque... Vai, vai, vai avanti, vai avanti. Falla rivedere, falla rivedere. Aspetta, faccio rivedere un attimo. Non so se era qua, vediamo. No, questa è incredibile. La di prima, no, aspetta. Ah, però guarda, tra l'altro non è che le guarda tutte, cioè guarda quelle che... Quelle che mi sembrano tutto, guarda, sì, guarda che aggancio, guarda, è uscito mirato così, fermo. Hai fatto un'assurda impossibile, non l'hai guardata solo perché micchia non è fatto in tempo neanche a sparare un colpo da come ti sono uscito, sì. Ma lascia perdere, dai. Fermissima la mira lì, dai, mega, però fermissima la mira. Lì ho detto magari sono matto io che sto a immaginare cose, è comunque rosico e cazzo. Però c'è il giro, tu sei il classico che se tipo va di moda metterci un corno in testa... Non va di moda, però se non va di moda non se lo mette, perché sono gli altri chissà cosa pensano. Se tu, stavi che città, vuol dire tranquillamente. Anzi, non mi piace fare il piagnone, semplicemente il piagnone non mi cambia niente, semplicemente vedo certi chi sospette. Entro il stream e sento persone che stanno Dispettate su questo, allora lo faccio presente Tanto so che Todica fa Comunque quest'altra vediamola un attimo Comunque qua c'hai una mira perfetta Quando non ti aspetta Mike Sai come la penso io da make up Io sono un player da make up Quindi capisco bene come deve essere la mira Qual è la percentuale che smiri Quando giochi bene Lì quando ti aspettava Mike La tua mira sembrava Anche una cosa normalissima Io veramente Se tu adesso mi dici vai Tempo due minuti Hai la mia cam del mouse, tastiera, monitor E io che gioco contro blind Per dire qua E ti dimostro che è quello il mio livello Non è senso gliele faccio Le 20 kill a blind Anche se sono mouse e tastiera Vai se vuoi farlo vai Ok Ti lascio libero di fare quello che vuoi Ho 3 sicuro, 2 l'hai vinta di sicuro tu Come ricordo Cazzamolo potevi dire MP7 Io so freddo ve lo dico Perché la faccio pagare Tu giurini che non gioco Ma mi congelate è freddo Per essere un player MP7 Per essere un player che come dici tu Non tryhardi Giochi chill Cioè sei entrato con un bel ego Io mi ricordo quando ho giocato contro di te Ti batto Giochiamo Cioè hai voglia Tra virgolette Di tryhardare Quindi Direi che c'è tipo gli amici E giochi a caso È un po' strana come cosa Se mi fai concentrare è meglio Ma non dovevi streamare lo schermo Mouse tutto Ok vabbè questa è iniziata Fammi giocare Poi tu lo stream No non ci è sbagliato No Anche prima dei 2000 punti C'è un'altra leaderboard Poi No 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 ho sbagliato Scusa Scusa Ho fatto una schifezza Niente Primo game Primo game Giocato di merda Di merda Di schifo È questo che mi dà fastidio Capito Non vorrei che mi crei questo Kyborg Che gente che Perché io non so neanche come fa A avere questo Cioè a scrivere A avere capito Subito Venire da me Così Ma si Sta flammando Ma io non sto capendo Bomber che scrive I mod di Kai Non sono dei migliori È diventato troppo arrogante Non se lo può permettere Secondo me Cosa non mi posso permettere Di verificare Se uno sta citando Sul nostro Facci fare questo game Facci fare questo game A me blind Che cosa non posso fare Nella mia live Nel mio discord Con la mia community Cos'è che non posso Permettermi Bomber Cosa non posso permettere Sono arrogante per te Sono arrogante Lo ammetto Sono sempre stato arrogante In questa situazione Non puoi essere buono Non puoi essere buono Facci startare questo 1v1 C'è la cam o no? Volevi streammare con la cam Scusami Non riesco C'ho il telefono E basta E come non riesci Ma l'hai detto tu Che lo vuoi fare C'è un casino sul tavolo Fra Non posso neanche streammare Allora L'hai detto tu o no? L'ho detto fra Ma nel senso Ma non Allora Che senso ha Che guardiamo queste partite ora? Quello è il senso Io ti do Se non le vuoi guardare Non le guardiamo Ma tu avevi detto Che ora Vi dimostro 10 secondi Vi dimostro tutto Che non cito Non ho niente Non avevo dato niente Streamo Sia il monitor Ma su tastiera Tutto L'hai detto o no? Ma vuoi vedere il monitor? Scusami Ti metto la stream Fammi streammare su Discord E ti streamo lo schermo No io voglio il telefono Sul monitor Dai metti il telefono Ci metti due secondi Oh All'esempio È entrato anche No devi Devi avere la monitor cam L'hai detto pure tu L'hai detto prima o no? Scusami La cosa cambia Se streamo lo schermo Cambia 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 tanto Certo che cambia Come cosa cambia? Non streamo Non streamo L'applicazione Streamo proprio lo schermo No Non c'entra niente No ragazzi Non posso attivare il tele Cioè Non posso veramente Mettermi col telefono Qua adesso Fai un po' di pulizia Ma a parte che secondo me Una cosa del genere Cioè non me la potreste neanche chiedere Cioè Ma l'hai detto tu No no Ah no che è illegale Non che è illegale Cioè Ok lo so che te l'ho detto Ma io intendo che ti streamo lo schermo E poi al massimo Ti posso mettere la cam Per le mouse e tastiera Fra lo schermo Cioè non posso riprendermi Ma una domanda Ma facciamo un esempio Pure se tu avessi 10.000 script Sul mouse Anti-recoil Aimlock Ma serve qualcosa La cam Su mouse e tastiera Il mouse Ma cosa ti stai inventando? No è una È una Ma che non esiste Questa roba Ma non esiste questa roba Che hai detto Ma che cazzo Ma se tu ad esempio C'hai le macro sul mouse Ma come faccia a rispondere Non ti sia Ma già che sei partito Con le script sul mouse Ma quindi a cosa serve Che tu mi parli di mouse E tastiera cam Non serve a nulla Che tu mi fai vedere Il mio capo Ecco che serve Perché vedi come gioco E tu ti streamo lo schermo No Vedi c'è lo schermo Streamato E vedi c'è Le mie maniche Giocano Guardando le tue mani Lo sai Io non vedi nulla Ma cazzo non vedi nulla La micchia Ma tu hai mai giocato dal mouse Sai cosa devi fare Per fare Sai cosa devi fare Per fare certe cose Ma forse tu giochi Da due anni a code Si vede C'è da come passa Se mi accusi di aimbot È fondamentale Vedere Ma tu no Tu no Ma quelli che mi hanno accusato Sì Quelli che mi hanno accusato Sì Mi accusano di aimbot Sì